Carta, plastica, vetro, alluminio, umido e indifferenziato, tutto ben appuntato sul calendario per esporre nei giorni corretti rifiuti, separati, stoccati e pronti da riciclare. Cresce l'Italia che ricicla, se da sempre comuni ricicloni, quelli più virtuosi secondo la classifica annuale di legambiente sono al nord, con 423 città libere da rifiuti nel 2023, pari al 62,7%, continua la crescita del sud, 176 località rifiuti free, mentre fanalino di coda per riciclo e differenziata resta al centro, con solo 30 comuni virtuosi. In Italia ogni anno gettiamo 4.000 tonnellate di plastica solo con il consumo degli spazzolini da denti, tanta quella che invade la nostra quotidianità, ma quest'anno la percentuale di riciclo degli imballaggi nel nostro paese dovrebbe arrivare a sfiorare il 75%, oltre 10.300.000 tonnellate di rifiuti di imballaggi troveranno una seconda vita, stima il CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi. E se restano desolanti i panorami di strade di campagna con lavatrice e batterie d'auto abbandonate, si consolida il riciclo di rifiuti elettrici, 2.599 le tonnellate raccolte smaltite dal Consorzio Ecolamp, Lombardia in testa alla classifica, con 304 tonnellate, seguita da Veneto ed Emilia-Romagna.